quali sono gli errori più comuni degli uomini a letto beh intanto il primo è una cosa di carattere generale ed è il prendersi cura di se stessi che è comunque fondamentale poi anche a letto ci sono alcune cose che vanno assolutamente evitate ad esempio se diciamo ai peli di un gorilla o di uno scimpanse fatti depilare perché alle donne piace sì il torace villoso ma il torace se hai peli diciamo pull over di peli sulla schiena devi fartelo togliere perché a quel punto lì queste cose qua ammazzano abbastanza l'erotismo lo stesso discorso vale per il fisico diciamo che muscoli flaccidi pancia e diciamo organi molli non piacciono alle donne per cui prenditi un minimo di cura di te stesso fai una dieta frequenta una palestra e mettiti non è che devi diventare mister universo ma essere in forma perché questo oltre a fare bene a se stessi e alla propria immagine da anche uno stimolo visivo come il maschio diciamo va alla ricerca di una donna che fisicamente li piaccia che fisicamente sia diciamo così eroticamente sensuale lo stesso discorso vale per la donna il gluteo mollo rammollito non piace agli uomini ma non piace nemmeno alle donne e siccome non è una grande diciamo tutti possono migliorarsi da questo punto di vista cerca cerca di farlo poi un altro errore è quello di credere che i preliminari inizino soltanto a letto anzi alcuni non credono neanche che ci siano i preliminari invece è molto meglio diciamo stimolare anche il desiderio prima iniziare a flertare durante magari se ci si vede durante la serata in qualche modo perché si inizia diciamo a stabilire un certo tipo di rapporto e una certa predisposizione e questa predisposizione poi facilita l'intero rapporto perché partendo già eccitata una donna riesce poi a lasciarsi andare più più facilmente non pretendere diciamo non credere di essere un porno divo e quindi diciamo comportarsi come come tale anche perché anche se hai visto molti lungometraggi e luci rosse molti sono strutturati per il piacere maschile e non per il piacere femminile quindi non sono molto istruttivo diciamo come come video per per apprendere poi un altro errore e credere che le donne non abbiano fantasie erotiche le donne hanno le fantasie erotiche come gli hanno hanno fantasie erotiche di uomini per cui è importante sollecitare queste fantasie svilupparle in modo tale da produrre una forte eccitazione perché l'immaginazione e la capacità diciamo di dare piacere più rapidamente cioè le persone che sono in grado di utilizzare e di stimolare l'immaginazione erotica degli altri sono quelle che vengono poi più apprezzate quindi è molto importante sapere incarnare saper tirare fuori le fantasie perché producono un orgasmo molto più intenso e molto più prolungato in una donna rispetto magari a pratiche meramente meramente meccaniche bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao